Ancora un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma e Buon Natale! A Roma, il 27 settembre, è il giorno in cui le famiglie del sud si riuniscono per celebrare la nascita del loro messia, San Francesco da Porta Metronia. Come in ogni Natale che si rispetti, si fa il presepe e si pranza tutti insieme con la posata sacra al capitano, il cucchiaio, mentre gli anziani tramandano le sacre scritture. C'era una volta un profeta, capace di guarire gli storpi con la sola imposizione degli piedi e dei faventi e più go a campionato. Da tutta Italia accorrevano a vedere le sue gesta e il suo magico cucchiaio. Mica, è finita!